Allora, Gioele, adesso cominciamo noi dall'inizio proprio, perché tu nasci nel 1900... Non l'ho già... No, se cominciamo così, cominciamo malissimo. No, diciamo che sei nato nel 1900. No, 1900 è un po' poco. Nella seconda metà del secolo scorso, va bene così? Sì, insomma, va bene, dai. Ok. 1956. Sono nato il 3 gennaio. Esatto. Come diceva sempre mia nonna, sono nata il 15 di agosto. E basta. E basta. Ma Gioele, Gioele Dix, è il tuo vero nome? No, il mio nome... È una domanda banale retorica. Lo so. No, Gioele Dix è un nome d'arte. Io ho fatto un pezzo di, diciamo, di strada, non chiamerei carriera, insomma, col mio nome anagrafico. E poi, a un certo punto, poco prima di venire qua, anzi, forse proprio per venire qua, quando Zeliga apriva nell'86, ho pensato di cambiare nome. Perché ero in un momento... Per non farti riconoscere, perché... Sì. È questa. No, no, ma anche perché fino a quel momento, con quell'altro nome, non era successo niente. Tutti mi dicevano, vedrai, vedrai, ti farai un nome, e invece io non vedevo. Per cui ho detto, vabbè, me lo faccio veramente. È stato un po' per scherzo. Poi, devo dire, da quando ho cambiato, grazie, devo dire, a lui, perché è stato lui veramente che è stato il primo che apriva questo locale. Ci conoscevamo già da quando aveva aperto altri locali, e lui ha sempre avuto una fiducia in me, così... Immotivata, diciamo. Sì, assolutamente immotivata. Allora, senti, io volevo sapere se durante la tua infanzia, adolescenza, eccetera, era già nata un po' una passione per il teatro, per le cose di questo tipo. Ehm, non lo so, mia mamma mi dice che io dichiaravo più volte a quelli che ti, sai quei adulti che ti dicono, a me dicevano due cose. Non lo vorresti un fratellino? E io dicevo, guardate, non lo so, parlate con i miei, perché io credo che... di poter fare poco, non lo so. Cosa posso farci? Che cavolo ne so io se voglio un fratellino? Tendenzialmente no, perché vedo gli altri che hanno i fratelli e se ne lamentano sempre, no? Quello che c'ha il fratello maggiore perché lo picchia, quello che c'ha il fratello minore perché non riesce a picchiarlo abbastanza, insomma. Questo bel rapporto tra i fratelli. E quindi... e poi l'altra domanda era cosa vuoi fare da grande, no? Io, in realtà, la mia memoria mi dice che io rispondevo il bigliettaio, perché... No, rido, ma... Eh no, perché a Milano, voi tutti siete di Milano, c'erano i tram e ci sono ancora, però adesso si va a obliterare. Invece prima c'era il bigliettaio che stava in quella piccola sua postazione e aveva tutte le vaschette per le monete. E poi, quando ne aveva tante, faceva dei rotolini con la carta. E facevano questi... e io sognavo di fare questo. Un uomo ambizioso. Poi, invece, mia mamma dice che un paio di volte io ho dichiarato che vorrei fare l'attore. E ero abbastanza... sì, ero uno al quale piaceva fare molte sceneggiate, imitavo mio papà al lavoro, imitavo i parenti, facevo sempre tutto nel chiuso della casa, perché l'esibizione per me era impossibile perché ero abbastanza timido, insomma. Sono sempre un po'... mi è rimasta questa cosa, cioè io sono ovviamente timido, non lo sono più, sarebbe assurdo che lo dicessi, però sono molto diverso a seconda di dove mi trovo. Se mi trovo a mio agio sono sciolto, eccetera. Mentre se sono in un posto nuovo, così... Tipo un locale di scambi di coppie, per dire. Per esempio, ecco, in posti così io mi paralizzo e per cui, non dico mi paralizzo, però faccio per cui, a volte faccio ancora, mi dicono ma... Adesso si preoccupa, quando eri giovane dicevano, ti davano, dicevano che eri un arrogante a quello che si crede di essere, invece adesso si preoccupa, mi diceva ma non stai bene, ma c'è qualcuno che non ti piace qui. E magari io semplicemente che appunto sto un po' sulle mie, e questo mi è rimasto. Mio nonno diceva sempre che lui dentro si sentiva come quando aveva 13 anni. Ed è vero, io più o meno, certe cose lo dice Kundera, no? Kundera nel libro L'Immortalità dice che noi siamo dei, nella maggior parte del tempo, siamo dei senza età, cioè non abbiamo la percezione reale dell'età che abbiamo. Quando racconta di una donna di 65 anni che vede su una piscina, che fa, saluta con la mano l'istruttore di nuoto, e dice rimasi colpito, quasi abbagliato, perché quel gesto era di una ventenne, con una delicatezza, sembrava buttasse una palla per gioco al suo amante. Così cercava di corteggiare questo ragazzo, che tra l'altro dice lui invece rise. Ecco, e quindi è bellissimo, noi siamo dei senza età, non so perché ho fatto questa digressione. No, però è molto interessante, dimostra un'altra volta ancora se ce n'era bisogno chi è Joel Edix.